Buona gara a tutti quanti, grazie. Grazie a tutti. Morici, Gabriete, Mazzolino, Alecani, Rosso, Smone, Melisio, Alessandro, Bucezato, Kevin, Giacomo, Alessandro, Rosso, Bucezato, Kevin. Grazie a tutti. 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 Domenica, si trova a Ostia che è il Presidente di una guardia di un commissima che sta facendo un compito anche in federazione. Ha un compito anche in federazione, ma di che cosa stiamo parlando? Che devo tenere conto a loro? Ma io ho gli amici altri, ce li ho anch'io. Ma io guardo, ma non mi tocca, non mi tocca. Questo è un lavoro, ma benissimo a farlo. Vedi, ci dividi in due pezzi. Grazie. Prendo. Grazie. 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 Oh. Sì 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.